Dove vuole arrivare? Qual è la meta più alta, l'esterno, la luna? Quale meta vogliamo raggiungere? Innanzitutto buonasera a tutti. Grazie. Beh, la domanda è una domanda complicata perché prevedere quello che sarà è sicuramente difficile. Io penso di esserci quasi riuscito, dico quasi perché c'è ancora un pezzo di stagione da affrontare, però penso di aver inculcato a questi ragazzi la mentalità di giocare ogni partita per vincere, senza porsi delle mete precise, ma di andare in campo tutte le volte con la consapevolezza che ogni partita ci può dare l'opportunità di andare a raggiungere quell'obiettivo per cui lavoriamo quotidianamente, per cui lavoriamo tutti i giorni. Quindi non mi vergogno a dire e non lo reputo un atteggiamento presuntuoso, ma noi dobbiamo puntare al massimo. Il massimo si chiama Scudetto, poi io non so se arriverà, però noi dovremo fare di tutto per cercare di raggiungere sempre il massimo di ogni obiettivo. questo sicuramente ci spingerà a fare bene tutti gli allenamenti, bene tutti i giorni, bene quotidianamente per cercare di inseguire quello che è comunque un sogno nostro, un sogno vostro e quindi loro devono entrare sempre in campo con questo tipo di mentalità perché è la mentalità che poi non si sa dove sposterà l'asticella, però per poterla spostare sempre più in alto bisogna essere vincente. Grazie. Grazie Moreno. Pensavo che di più non mi avrete detto, mi avrete detto molto, sicuramente. E questo è solo un grande in botta al lupo per il presente e per il futuro. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie a te.